Ha preso il mare da Livorno, oggi pomeriggio, la seconda nave della solidarietà per i popoli dell'Africa australe, organizzata dal Comune di Reggio. A bordo della Rea Silvia, quasi 11 miliardi di aiuti destinati ai campi profughi e ai rifugiati dei movimenti di liberazione in Namibia e dell'Africa National Congress. La motonave trasporta veramente di tutto, generi alimentari, medicinali, tende e poi attrezzature artigianali, agricole e sportive.